Piemonte per l'Europa Piemonte per l'Europa Piemonte per l'Europa Buongiorno a tutti, c'è Rea e non c'è il Piemonte per l'Europa ma torniamo a parlare un po' di Piemonte e poi l'uomo è bello, il nostro scrittore, poeta, Zaluse da già che l'avevo parlato con Michele Lerda e lei pensa bene a farlo venire anche perché l'ha pubblicato da poco Cos'è libera, veste chi ti racconta le storie e storiette che Toio ha scritto e che ha capito un po' proprio anche da sua vita masnà e noi ti l'empezchis con insomma chi ha avuto il mio fratello Ricco che ha scritto in Piemonte che era già venuto in questa trasmissione e allora mi ha detto «Bon, fumo tornare a venire quei due del nostro parto che mi vengono da che mi ero lì da Villano e Vassularle» e allora magari ha avuto qualcosa dell'ultimo libro che tra l'altro ha avuto riconoscimento l'estate premia anche da Prima Alpe tanto che ha avuto la possibilità come premi di stampare la cuia e la poesia qual è l'era? D'Ausin al Feu o l'Auto? No, l'era fotografando in Rima Ah, fotografando in Rima, ecco perché chi ha il suo appassionato della montagna e Nenmarc, e poi l'ho viaggiato tanto per via il suo lavoro che l'ha portato un po' per tutta Europa chi ha l'ingegneri minerari per lavorare per diverse industrie e via parei ma la montagna l'è sempre stata la sua passione allora con la Mies con chi ha l'andazia? Esattamente Ecco, come legge il nome? Tonio 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 ha l'era il suo soprannome che però l'era il suo nome sì, l'estrannome l'estrannome che però l'era il suo nome Tonio il cognome come legge che ho conosciuto io l'ho mai disegnata in mente sa che i due si ha detto il cognome lo sai po' forse che ecco, ho proprio conosciuto come delle stranome insomma, conosciuto che l'ho avuto sette anni ah, pensa quindi l'ho messo quasi 80 anni che si conosciamo mamma mia quindi e lì con le foto Palmero 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 con le foto e le poesie no? le fai proprio in acquia anche dedicati paesaggi alle cose della montagna esattamente ecco e invece questi come le salta fuori? con lì le salta fuori in una maniera un po' particolare perché all'era in pesca all'era in gestazione con il Liberli e l'avevo parlato tante volte con mio frate con Ricco eccetera e poi mai che riesci a dirlo alle stampe perché Ricco ha andato via tante quelle storie lì sì sì e l'avrei probabilmente giù a mettere più profonda e più grossa più abbondante e poi invece all'entrata come all'entrata e mi un bel momento le fai che tirare fuori il papè dante il casiot e l'ai buttato insieme e l'ai dato alle stampe e le mnue le mnue le mnue no ma sono vere sono il conte che avevano paesi le conte solite le maznà il capucetto rosso e la biancaneve cioè insomma con lì con l'impostazione sono storiele che in parte sono vere in parte sono inventate in parte sono derivate delle storie che le hai ascoltate magari anche che le hai ascoltate ai miei vei eccetera e comunque arriva a Slavin e l'ai buttato insieme un libretto con 31 storiele che le hai buttato 31 perché avevo essi di del mese in maniera che ha sido una specie abbreviare diciamo per un veiotto per un nono che l'abbia goi e contei le sue maznà e non ho avuto delle storie e che poi era più da lì l'inizio sì l'anno di lì e perché in queste storie le hai cercato di mantenere come trazza principale sempre le cose importanti della vita sicur lì sempre la bontà la frequentesse l'amicizia e tutte queste cose si e le hai cercato di riportare lì in maniera di interessare qui più in maniera che non mai sento la storia di apprendermi ma comparo con un po' la lingua perché è un po' il film che è un po' in tutto il titolo libero lei chiudì un po' la prefazione ma anche due o tre pagine pareti le cose che scrivo lo conosco bene è bello sì io l'avevo butà ad esempio in due chi alla parla no? le curiosità sono le 6 ad esempio parlavi di una giacca bimbaraventana che era presa e fino a una galina Ferrari e un pescaduro alcuni che avevano dei bei pezzi in piazza Galimberti che era lì magari i bei pezzi nel tocco e però è bello è bello perché aveva proprio la bimba che avevano e loro in famiglia no? avevano il frio Ricco e poi la sori Laura e Maria Rosa e Luisa tre sori e un frio tre sori e l'avevi scritta anche l'arcord che l'avevi mandato per un giornale che l'avevano mai riusato proprio parei mai riusato l'olire aveva mes propi effetti perché mi che vengo con una famiglia grossa ne riusavo tutti si ma che le riuso si si parei e fasi proprio il giro tutto di l'uomo perché ne riuso tanto da usino nell'uomo che mia mamma aveva mai riusato e mi è ricco l'uomo è riusato ma anche per il giù sì cioè c'era tre anni ma però siamo sempre d'accordo poi l'uomo sempre condivido la passione quindi la montagna andiamo 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 la bici insieme per giocare al ballone sempre a saluce una volta avevo fatto una squadra per fare un torneo notturno ai salesiani a stember e fasi un torneo notturno tutti gli anni a stember alla festa del paese e fasi una squadra e 6 o 7 individui e avevo fatto una squadra a saluce dove ero 6 che giocavo e ero 3 cubi e fratei e allora ero proprio le bande e proprio le bande io e mio frate che giocavo con la squadra questo per dire perché ero una maniera di vivere antipaese antipaese ecco e su sito giustamente avevo gittane tanto anche andato d'accordo avevo frequentato gli oratori i salesiani eccetera quindi avevo gli stessi amici perché frequentando le stesse cose avevo gli stessi amici quindi alla gittane sicuramente ando sempre d'accordo e niente stessi lì a Villanueva perché ero un paesotto figliate niente da sui facevano già una banda allora magari però quando ero che ero in fuori e quando ero allora lì ero tutti insieme comunque comunque anche anche in Tlon Calais il Piemonteis il Piemonteis l'ho amparato insieme perché a mia casa parlava quindi mi sono sbagliato un po' la prima volta che hai sentito parlare l'italiano e hai sentito me parlare al telefono mi sono sbime una fresa ecco perché chi sa qual è ma continuo continuo ricco all'estame molto bene da guida anche in Tlon perché l'aggiutame a un debut del nas in ta biblioteca nonu che era quel che hai piaci al Piemonteis ecco 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 le cose in Piemonteis anche se l'ora non c'era tanta roba ma tutta roba di primi scrittura si si già quando che arriva ai costali era già una cosa avanza ma che aveva ancora roba più bella eh ma mi ricordo anche mio papà l'ora aveva proprio il culto delle cose in Piemonteis anche mia magistrale elementare venite ero lì con il parco d'un piusè quindi figurata perché l'ora aveva proprio la passione lì a salire c'era un che aveva al massimo quanti mille era poco più che mazna che era giù notte eccetera e che l'ora un certo dottor Bonavia ah sì ecco il quale Pinoat Bonavia scrivì in Piemonteis ma papà lo conosceva bene perché l'ora l'ora esattamente esattamente quando andassi a televisite e lasciava i i figli i figli con il poesia pensa e che l'ora lo faccia con mio nonno perché l'ora andassi a trovare mio nonno perché l'ora di la verità faccia un po' la corte a mia mare ah ecco perché mia mare la sentite faccia un po' la rua era una bella fuga era una bella fuga era giù allora lavorava due sei pa' quindisi o dintini in Piemonteis eccetera e che girava lì ecco e in Piemonteis ha capito la poesia a mio nonno ha capito comunque in Piemonteis poi con la Valvaraita lì i barbatoni io avevo tutta un giro proprio la gente che parlava in Piemonteis sì 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 e mi piace Rialesi questa sì che l'ha dedicato a Frel perché vent'a dica la collaborazione a dire con quella ad esempio che le pitture no? esattamente perché la pittura va qua allora ha fatto con le pitture diverse liberi esattamente la città ma proprio ha imposto anche graficamente libero no ma per dire era proprio che allora certo la maniera di lavorare volentieri insieme e che le pitture avete con la cuartina e mi hanno ancora tutti i quadri che sono serviti per fare i primi libri i primi libri dovevano fare l'ho studiato insieme che ha la fame la cuartina per la fame tutte le le cuartine diciamo i divisori per tutti i capitoli sì l'impostazione grafica e che ha con la matita in mano si che era in gamba e che era un ingegnere si si ingegnere elettrotecnico si si e beh due belle teste due belle biocche che ha diso ma biocche che ha le pimpie montagnes mi ricordo mi ricordo questa moda ragione la gramicia d'un destino crudel alla rubà chi essa via ancora sogna all'aspettare che il tempo fosse abel o che il mio viso fosse ad inquadrare e ad noi alla piame ma fratello ecco trovo che è proprio una blessa che la poesia si perché ha buttato insieme il mio viso le cose proprio anche il pensiero all'indomani le cose che uno ha da fare perché eri sempre ciappà tutte queste cose insomma ed è proprio stata un po' una sorpresa perché anche se si si infatti aveva un'operazione certo 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 e invece passando proprio alle storie che dicevo prima mi pensavo all'esì un talk che pescadù che pescava perché ti parlavi sì della tua contastoria che arrivava a la terra che veniva sempre che lo chiamo il bravo e che la propria la típica la típica incarnazione che era una volta al contastore ah sì arrivavo al turutela esatto arrivavo lì sul mercato e poi dopo inventavo la manera con te una storia mi ricordo che l'era andata famosissima la storia dell'ecidio di Villarbas della della quale storia proprio una canzone fa eccetera ma mi ricordo qua che sentivo parlare questa roba e quindi venivano lì abitavano un cavale nella oagna un gesto qualunque i pendi di pittura si che c'è che faccia il pittura e poi dopo man manca giravo i fai raccontavo la storia che era con la figura lì e mi dice che alle volte racconta un po' come l'ex vuoto perché uno scrive la storia però se vedi come la consulata turin o la consulata luce hai un ex vuoto che sono proprio franc con le storie lì ma fai tempo di tira in maniera che una sia proprio tira allora va dire carca droga o anche la nauca fonda le famose nauca che erano fondata quando si numerica tutte queste cose lì è proprio sempre stata una cosa come fai giù durante il medioevo con l'exulta il caso l'autolava Pasqua latin però con le figure la gente riesce a capire in la maniera lì 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 vedi lì che i cartoni di disney alla fine arriva sempre da quale parte e allora andiamo vedi sì una bella mattina alle presentasse in piazza Galimberti proprio il salotto del Kuning un monsù tutto vestito da pescadur con tant d'estivai alla corsa giù bò senza mani con tanti saccucini e capla sa regolamentare alle piazzasse proprio su tal monument che è in mese della piazza e con un bastone drammà sa mani la fazia fin tot pescè cu la cacciamo senza fili ah è una pia ha insistito secondo me tant che basta alla fine il pescadur con tant che voglio tridur stamattina sono già 40 e i due amici hanno tirato dritto per sua strada con tant l'arrivo per il sacco ecco erano un po' queste anche le maniere no? cioè direi la giacca alla gente esatto con tanta storia come diri una basaletta però è differente ancora è ancora differente E' un libro che esiste sia Cunni, l'autore sai nemmeno che sia, ma che deve s'intitolare storie, storielle di Cuneo. E lì butungsema tutte le varie drullarie su Cune. Storielle che c'è lì, è proprio... Sì, come quella lì che cercava la ciao, sia proprio fin a una rapida. Che cercava la ciao in piazza Calimberti. Ma in Curs-Nissà, lì da Curs-Vittorio all'angolo, è proprio la rapida che la conta. Che dice io, ma che scusa, che stia la cercava la ciao fino alla sera? E alla fine, lì che passava, una le dice, ma che scusa, ma che cosa cerca, si può dire una mamma? E io cerco, lei ha perduto la ciao, ma lei è sicuro che lei ha perduto proprio così. Oh, Diana, lei è venuta bene così perché sì, se c'era meglio. Tutta questa storia parella. Storia lì, cioè una storia in cui a spia in giro, che alcuni, però per la fine, hai sempre l'alto aspetto della vicenda, dove c'è dire, insomma, a su un parei, però sono abbastanza furti, abbastanza svicci. La consolazione. Esattamente. Ma chi l'ha cattaccava gli asini lì sotto al palazzo della comuna. Ah sì. Perché poi loro l'abbiamo buttato il cartello. Non levare gli asini di sotto perché disturbano quelli di sopra. Chiaramente. Chi ero così in pedazzo alla fine. Comunque, tra questa sì, che hai tutte queste belle storie, e poi hai tutta questa qui, perché poi la dice a Palandino, ma... La mia proiezione. Hai tante qui e poesie, perché sono proprio belle le poesie. La poesie, la prima volta mi l'hai taccà e l'hai dus, potete andem ben xiu per fare queste cose, perché quando che treballava, posia proprio n'em dediquem. Però, con l'onga a mi, le sia sempre quei cose, piemonteis, eccetera, però con me frè non parlavo, anche, calmo l'orastasia in Toscana, però... Sì, perché con chi ha le trasferisce. Parlavo per telefono, che a volte sono dall'altro oeste, divertivo a parlare tra noi in Piemonte, e tagliare fuori i tuscanas, capito niente. Che ho detto, i strassi la via argentà in Vraeta, in Vraeta. Esattamente. Ma con l'onga, mi ha dato in pensione, l'ho nemmeno in mente, parlando con Enrico, l'on m'ha discutito una volta, e che all'alte di me, la via consigliame l'onga, di tirare fuori tutto l'ongelà, per lì, perché anche chi ha la via fai colunco, la via fai me, e scrivia ogni tanto i corsi, e poi ficava qui, campavessi lì, campavessi lì, e una montagna. Ma tutti parei. Ecco. E arrivano alla fine, la dì, ma via tutto, poti butti lì, fermi, eccetera, e cercano di buttare insieme quei corsi. Dei è una andi, una dritta. Una dritta. E alla fine, allora veniva fuori l'idea, di fare il primo libro che lei pubblica, che era dapposito al fai, e allora, mi sapevo che non so, tanto come bucemo, in queste cose, perché a me, in una fabbrica, magari, non so, non so, non so, non so, non so, ma la letteratura, non so, non so. ma sempre però, su cose belle, che la spai bina, e allora, e allora arrivano alla fine, e l'era rivolgime a Tony Tavela, buonanima, che era lì nel mio paese, il dracchionista, e Tony, uno sbrautonio, e Tony aveva consigliato, e parlato con Barba Guido, allora aveva abitato in contatto, e Barba Guido è quello che la dà un po' la dritta a tutti. con Barba Guido, il quale un bel dì, ha dato l'appuntamento a Cunni, eccetera, e la portato da Ezio Bernardi, che è il direttore della guida, il direttore della guida, che le infiliamo prima alpe, e camminava, e allora, abbiamo parlato con Ezio, eccetera, e abbiamo parlato più di te, quindi siamo andati subito d'accordo, e abbiamo provato, la stampa libera, e il libro lì, tutto sommato, anche se lì, il primo libro, e quindi probabilmente, avrà tante, ciamomie, No, no, ma se quel mille era venuto bene, ecco, comunque, e comunque, alla fine, la spagna è talmente tante, che si vengono a registrare, perché non stiamo, è bello che finiscono, comunque, che libera lì, che libera lì, all'indai abbastanza bene, all'indrinta tante poesie, che hanno tante, tante cose, si, si, le stai, divisa tante settore, eccetera, cosa che poi l'hai ripetuto, quando l'hai stampato, l'ultimo libro, poesie, che l'era, a cavallo di sogni, e allora, stampando a cavallo di sogni, l'hai ripetuto, la stessa formula, e l'hai tornato, purtroppo, era più nemmeno ricco, quando faceva i cicci, e vabbè, di una salutete, perché guarda, ci mangia bene, che arriva alla fine della torna, salutiamo a tutti, e senza odo farò ancora venire, perché chi ha la scritta, tante cose, grazie, grazie a tutti, in particolare, alla redazione, che l'ha, a cui io mi provo, ben, grazie a tutti, ciao, grazie a tutti, grazie a tutti,